Buongiorno, quest'oggi vi presento un coltello diverso dai soliti, vi presento un chiudibile. Questo coltello è un 2 in carriio modello Tripwire 2. Come potete vedere è un chiudibile di grossissime dimensioni, ha un peso di 310 grammi, è lungo 4 pollici e 25 di lama, 9 pollici e 75 in totale, l'acciaio è il CPM 154, la manicatura è in G10 nero, una guancetta, mentre l'altra è in titanio. Porto con clip, coltello molto particolare, che è proprio una caratteristica di questo maker americano, che in America è molto ricercato, mentre in Italia invece non riscuote moltissimi appassionati, ma infatti è l'unico chiudibile che ho nella mia collezione proprio per le caratteristiche, infatti potete vedere è un vero e proprio carro armato, con degli spessori esagerati. Ecco a voi, grazie a tutti per la visione.